ciao a tutti e bentornati sul canale oggi voglio mostrarvi la ricetta dei miei muffin vegani alla banana e frutta secca sono facilissimi da realizzare velocissimi e soprattutto senza burro senza olio senza uova senza latte quindi sono super leggeri e anche sali ecco quello che vi occorre vi occorrerà una banana matura che dovete schiacciare per bene questa andrà a sostituire lo zucchero quindi non c'è bisogno di mettere lo zucchero nel composto un cucchiaio di crusca di avena o di fiocchi di avena quello che preferite e 4 cucchiai di farina la farina normale in sostituzione ad essa potete utilizzare la farina di mais per esempio se siete intolleranti un cucchiaio di lievito mescolate bene il tutto se volete potete anche aggiungere un cucchiaio di zucchero di canna se li volete un po più dolci e infine per impastare il tutto 4 o 5 cucchiai di caffè vedete un attimo voi ad occhio il composto non deve essere né troppo solido né troppo liquido mescolate bene il tutto e andate ad inserire l'impasto all'interno delle formine per muffin io ho inserito all'interno della frutta secca e anche delle gocce di cioccolato infornate il tutto a 180 gradi per circa 15 minuti dopodichè i vostri muffin saranno pronti per essere gustati una ricetta come vi ho detto super facile e veloce spero tanto che il video vi sia piaciuto se è così mi raccomando lasciatemi un bel pollice in su se vi è piaciuta la ricetta se provate a farla mi raccomando fatemi sapere giù nei commenti iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto in un prossimo video ciao 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 ciao